Ciao felidi! Oggi facciamo un bel caracal caracal e non è altro che una specie di lince impazzita, così dice l'enciclopedia, e come struttura abbastanza simile a tutti i felini, insomma. Anche se purtroppo dubito seriamente che sia addomesticabile, visto che mettere un caracal in salotto penso che sia come strappare i baffi a un signor anziano, però ha veramente degli occhi bellissimi anche da disegnare, ma ho letto che le femmine costruiscono i nidi con i peli e le pene delle prede. Io per esempio quello no, e cerco di rendere giustizia alle orecchie, che sono la parte più caratteristica, infatti ne ho tagliato una parte, e vado a rifinire il suo manto ambrato, che è il suo ecosistema preferito.